Stamattina i carabinieri di Ragusa e quelli di Catania a Fontana Rossa hanno rintracciato e arrestato una latitante internazionale, una cittadina rumena trentenne colpita da un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di tentata estorsione in concorso e favoreggiamento della prostituzione. I fatti che hanno portato all'arresto della donna risalgono al 2013, quando un imprenditore di Vittoria e allora esponente di un partito politico, dopo aver avuto un rapporto sessuale con giovani donne dell'est europeo contattate tramite annunci online, è rimasto vittima di un'estorsione. Durante la consumazione del rapporto, infatti, gli sono state scattate delle foto, poi gli sono stati richiesti 100.000 euro per impedirne la divulgazione. L'uomo si è quindi rivolto ai carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato il fratello della latitante e un'altra donna, mentre ritiravano dal posto la busta depositata dalla vittima con parte del denaro richiesto. Per la stessa vicenda, già nel mese di febbraio 2015, gli stessi carabinieri di Ragusa avevano dato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un vittoriese classe 50, imprenditore agricolo incensurato, accusato degli stessi reati. La trentenne rumena, che con lo stesso provvedimento risultava destinataria della misura di custodia cautelare in carcere, era invece riuscita a fuggire in Romania. Da allora però le sue ricerche da parte dei militari di Ragusa non si sono mai interrotte e la stessa risultava latitante internazionale, poiché colpita anche da mandato d'arresto europeo. La donna è finita oggi in manette mentre si trovava in visita a suo fratello, che si trova ristretto agli arresti domiciliari a Catania.